e ragazzi benvenuti benvenuti, io sono Magros, siamo sempre qui su Diablo Immortal dopo una prima parte forse troppo semplice però dobbiamo ancora potenziare un pochettino il personaggio il gioco è un free to play come già vi avevo annunciato sia su Android che iOS noi invece lo proviamo su PC però già so che sta dando dei problemi soprattutto per ciò che riguarda le casse che andiamo a sboccare ciò che hai avuto è miracoloso, mio amore face such foes e vivere per raccontare la storia semplicemente astounding siamo forti, siamo arrivati nel tempo i cultisti stavano chiedendo demoni i loro leader chiede ad il Lord of Damnation un demon chiamato Scarn Scarn, non ho mai parlato di questo nome prima e così come ho capito, non c'è un demon Lord of Damnation chiaramente, e c'è la questione di quello che facciamo con il Shard questo tipo di potenza non appena in mortalità suon questo abbiamo concetto vedete, non ho venuto a Wertham per chance, mio amore un ritual di Herodrici mi permette di divinare la locazione di diversi Worldstone Shards uno è qui in Wertham l'altro è che c'è un cemite di Ashwold ho venuto qui sperando di ottenere la Shard e lo destruire, se possibile prima che la calamità si accendere alla noi non ti preoccupi, non ti preoccupi, mio vecchio amore perché questi oscolti sono venuti a te con un solicitato mio apprendizio Lethis a ottenere una scuola del mondo. Nella scuola di potenza, ha portato ruota sull'Ashwold. I morti riusci da loro gravi, e la balanza teeterà sul brinco di disruzione. Molto come io. Non puoi aver segnato la significazione di questa scuola, o il sacrificio che ha fatto per finire la sua threat. Quindi ti prego di dare il vostro aiuto, in modo che puoi. Gattato? A parca miseria. Nuove abilità, fantastico. Ok, e questa? E fuoco d'anima, ok. Questa, quello là? Esplosione, eh? Falch? Ah, è questo, è quello qua. Spuntoni d'ossa. Ok, equipaggiamo qui. Spuntoni d'ossa, che fa? Evo quei spuntoni d'ossa, giustamente, che ero un po' dall'altare, erano strumenti nemici. Vabbè, ok. Quindi su 4, 1, 2, 3, 4, e con Q ci curiamo. Vabbè, 1, 2, 3, 4. Vabbè, fantastico. Che c'è roba per noi qua? No, no, no. Pensavo ci potessimo fregare qualcosa. Esco? No. Non ho finito di parlare. Certo, certo. È morto. Ah, dormi per noi. L'oggetto, pensavo, una banana. Ci regala la mappa. Vabbè, prendi la mappa del mondo. Questa è un sanctuary. Per proteggere, devi passare molti paesi. C'è un paese di scopo. Vabbè, devi passare senza dubbio. Per l'occhio di nonno. Questa risposta è per noi. Un'opportunità di combattere la scuola, per assicurare la nostra sicurezza, quando un nuovo Il resto? Vabbè, sto capendo via la mappa Qua? Allora, c'è un po' di roba, eh, però Un momento Tipo, per esempio, questa la possiamo anche equipaggiare 38 Uh, parca mi si è giuba Sicuramente ci mettiamo questa, direi di sì Questo fa 16 Questo 38 Direi i I pantaloni 180 Direi che forse questo è un po' meglio Già abbiamo equipaggiato questo 160 150 Vabbè, siamo a posto, no penso, sì Questa non so cosa sia Curdera Trocca per vedere gli attributi bonus Ah, vedi Forza Ehm 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 Non c'erò Danni Non c'erò Tributi bonus No Evidentemente Evidentemente no Aumenta probabilità Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta, no Soltanto qui Vabbè, fa niente Vedito, livello, siamo a livello 10 Ok Questa non so cosa sia Questo Vorrei Zona sicura più vicino Generare come controller Vabbè Ehm Mappa Non ho capito dove stai Di cavità Mappa qua Ok Questa è la mappa Spostiamo di qua Trocca per vedere Chiudi Ok Esci dalla cappella Usciamo dalla cappella Ben fatto Porca miseria Hai salvato Continua a ottenere Due le ricompense Combatti Combatti Ok Continua Viaggio automatico sblocchiato Raggiungi il cimitero Tocca per scattare le ricompense Sì Equipaggio di oggetti magici E schiatta Palla con fab E schiatta Oddio Oh Mia Potentissima Raggiungi il cimitero Premi Altri per interagire con il giocatore No Non ci interessa Ah ci va da solo praticamente Questa è una grande cosa Voglio vedere Sono una cosa Però Niente Dai Va beh Questo diciamo è simpatico Perchè poi obiettivamente A dover premere una volta È una bella rottura di scatole Anche se Penso che Forse Avrei potuto fare tipo un viaggio rapido Una roba del genere Non so Via del commercio Un viaggio verso il cimitero Ok Ah questo è il viaggio rapido Ok E via Ok scusate Pensavo che fosse Eh Va bu Ok Qui c'è via Ok Cintura cintura Vabbè Tocca per smettere di tracciare le missioni No Raggiungi da casa Guardia Raggiungi da casa del guardiano Dai Ah vedi Vabbè Sì Però Questa ha messo Un momento Un pacchetto acquistabile Ma Ehm 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 Ok Ecco la salita L'abbiamo riscattato Ogni giorno si può fare Ragazzi Quindi vuol dire che adesso dovrei avere Questa che me c'è stata Ok Equipaggiamo Questa qua Equipaggiamo Penso un po' di roba Dovremmo Anche buttare Secondo me Eh Vabbò fa niente Ehm Sì andiamo Qua Ma qua non c'è niente qua Venite ragazzi Qua c'è un pauletto eh No non c'è niente qua Allora ho detto ci fosse qualcosa Non c'è niente Ufff Chiavolo Questa abilità Bisogna riuscire Sì sì il momento che ti venga a dare una mano Mi capire se c'è qualcosa per noi No Un mili d'abili per te, amico Ashwald ha sempre avuto l'occasione bandito Non c'è niente così Ho le mie ragioni Non c'è niente Si sembra che Ashwald ha diventato Mi si è sbagliato con gli uccani Si c'è niente Voi sai cosa Voi Il resto del guard ha stato battuto per le ore Volemmo Il mio figlio ha entrato nel cripto di niente Niente questa mattina Se lo trovi Io sicuramente posso dire più ok ho beccato qualche altra cosa penso sì questa qua che c'era il negozio adesso dobbiamo vedere e scatta le compense giornalieri scattato un po di coperti che c'è non ci interessa grazie abbiamo riscattato tutto ok siamo a posto sì 43 e ripagiamo chi è il borghi chi è questo che miseria ma ho bisogno di cure per i perdi pure mazza alcuni sono fortissimi avrete visto altare e forza perfetto dove si può se abbiamo queste abilità ne volevo equipaggiare le altre perché non ne abbiamo di più no chi è questo ripta stop wasting my time you present i know how body was buried here where is a silla's tomb the queen's tomb was hidden the dead deserve their rest wrong answer the dead serve me a fact you will learn soon enough you it's your turn so i suggest you speak quickly where is the tomb i don't know i don't know none of us do only the queen's handmaiden knew its location i swear let this stop this your wanton disregard for life ends here you will be brought to justice so how i tire of your jealous attempts to suppress my potential now now with the power of the world stone at my command i will obtain true dominion over the dead your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world you are a relic old man this is a lot of force no no ok quindi adesso forse mi sono cuvato una volta boo wait I need a corpse 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 vabbò speso? spalletti ho preso si speso spalletti ma vabbò another priest of rathma i assume the order is growing impatient then well i assure you i shall detain my former student if you wish what a day certainly didn't expect to get choked by some death mage when i left the stead this morning necromancer non mage e lei non è passata per la informazione che chiede quella handmaiden è in grave danger ho bisogno di aiutare o questa ragazza è così buona luce, mercia tu è vero aspettate, lo so capitano Asmere a guard's watch ha conosce la mage se tu andes là ok, diamoci ah, devo diamoci una mossa io pensavo che saremmo andati un po' più avanti e ti dico le tasse l'altra cosa carina è che si può cambiare anche vabbè, non lo faccio adesso perché se no non so per quale motivo quando fa tutta cosa ma attaccano sempre chi stai attaccando qua su? di qua, di qua ragazzi di qua capitano io pure le cose ma non occorre neanche curarsi per adesso abbiamo il tasto Q per curarsi di qua qua oh che è sto chi sta qua dentro? ma mi aspettavo qualcosa è un altare? no questa è bella 16 uccisioni 19 19 stavano occhio occhio abbiamo plegato in pezzo un po' tutti chi sta sparando? penso bastia so you're the one who took care of the undead at our gates thank you for that it's been a while since any visitors been able to walk through them but I won't lie we are in dire streets here my men's weaponry won't survive another round like that one talk to Paulie blacksmith and bring me what he's got finished then we can talk e parliamo con questa allora mi stai portando un po' a eh stai di fronte he knows I can see him yeah well like I told the last guy weapons take time to forge I'm working as fast as I can I'm sorry the stress is eating everyone alive here I've got half the lot done just take him to the man hopefully that one back to work then okay you back and with half the order no less I wish this were enough but a 2 metri stavan or these undead rising and my men are tired still thank you we will make do now I'm certain you didn't come all this way to deliver me a bundle of swords what brings you to guards watch I'm looking for queen a silla's former handmaiden the girl's life is in grave danger the handmaiden gods I didn't know her home isn't far just up the trail from here beyond the graves I join you if I could it's all right I understand ma non ci non ci segue andiamo da solo dono dono potenziamento equipaggiamento ok si non so che sarà tu stia facendo ma non fa nientra vediamo qua codex ok rischio ok così forte ha una potenziata una potenziale ha spunto di potenziale ok conquista questa non so cosa sia 594 equipaggiamo so basti ero curioso di di cavità di cavi e strutture allora qua conquista mondo apri no almeno qua forse qua ok quindi questo abbiamo visto trova la casetta di l'ancella e porta parla col fabbro un momento perché però la casetta di l'ancella ok e invece qua parla col fabbro ricicola un oggetto parla col fabbro non dovrebbe essere qua vicino ce la facciamo subito a volo il fabbro non è questo fabbro qua eh sì allora cosa possiamo tocca per se sono oggetto riciclare non è che è forte questa che posso potenziare questa diciamo che facciamo il nome materiale scattano che possiamo fare niente e tanto c'è no decine no non ce l'ho quindi abbastanza proprio allora riciclo qualche altra cosa poca roba da riciclare ci giuba ma sto ricicando l'impossibile così questi pensi di poi che possiamo potenziare 84 125 no ancora non ce la faccio mi sembra un po' eccessivo vabbè di qua ok penso che adesso lo posso perché ne ho vissi parecchi quindi forse adesso parla col fabbro potenzia ok potenzia solo questi posso potenziare ma non avrei voluto potenziare i calzettoni secondo grado ancora questi posso potenziare basta voglio potenziare un'altra cosa cioè tipo fammi potenziare ah potenzia no a grado 2 guarda che vido lì vai va bene basta penso troviamo la casetta vai riscattiamo pure questo così ci vediamo pure un po' di roba con questa ok entra nella breccia no volevo trovare la dancella la casetta vediamo se troviamo sta casa la casa potrebbe stare qua dentro la casa potrebbe stare qua dentro aspettiamo la casa potrebbe stare qua dentro 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 il sentimento di morte la ragazza è morta prima di arrivare è torturata dal vostro apprentice, credo sì, questo sembrava come l'attacco il corpo è ancora calma credo che la reanimazione è in ordine e che gli fanno? quella me l'ha rianimata raffa raffa guida mia voce allo l'ho raffa raffa che lei ha chiesto la locazione della domina mi ha detto non volevo ma lei mi ha fatto l'ho raffa me le le Do not let us near the queen's body Questa è una città di esperienza Quanta esperienza Vabbè ragazzi io penso che questa parte la possiamo terminare qua Certo sono andato un po' più avanti Per bloccare un po' di cose Come già vi ho detto Se magari giocate Ci potremmo fare pure una partita Insieme eventualmente Tra l'altro vi dico abbiamo bloccato pure questo Castone 3, 4 addirittura Si possono mettere Porca miseria Anche da questa parte Vabbè comunque ho sblocchiato un po' di cose E man mano stiamo comunque andando avanti Scrivetevi nei commenti se ci state giocando Prossimo video Bye Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale